Una proposta che piace, formulata nell'ottica dell'impegno per la continuità produttiva dello stabilimento e la salvaguardia di tutte le sue maestranze. Sul caso Safilo, l'assessore regionale a lavoro Elena Donazzan non ha dubbi e nel corso del recente tavolo istituzionale ha dato il suo beneplacito alla possibile bozza di accordo definita da Femca Cisle e Wiltec Wil Belluno con l'azienda ed i soggetti imprenditoriali interessati a subentrare nei due rami dell'azienda riferiti allo stabilimento di Longarone, ossia Telios e Innovatec. Fra gli elementi oggetto della possibile intesa la conferma della cassa integrazione per due anni con la garanzia al 100%, l'accompagnamento alla pensione e gli incentivi per chi volesse andarsene. Esprimo soddisfazione per i contenuti di questo accordo frutto di un lungo e approfondito dialogo che purtroppo non ha raccolto la condivisione unanime, ha dichiarato l'assessore Donazzan. Nel rispetto di tutte le posizioni sindacali per le prossime fasi, che vedranno l'espressione della volontà dei lavoratori e la sottoscrizione dell'accordo definitivo, auspico la maggiore serenità possibile. Già perché tale bozza, come detto, non è stata condivisa dalla Filctem Cigelle Belluno. Noi siamo contrari al piano industriale di Innovatec. Contestiamo alla Safilo questo tipo di situazione per cui rigettiamo questo tipo di accordo. Chiediamo invece di riaprire la trattativa. A nostro giudizio non si sono esplorate ancora altre possibilità come quelle ad esempio di coinvolgere anche il gruppo LVHM che sta in capo a Telios. Un'avvertenza che si trascina da mesi ormai e che continua a far discutere. La parola aspetterà ora i lavoratori chiamati nel corso dell'Assemblea del 1 settembre ad esprimersi con un referendum. Dal canto suo l'assessore regionale Donazzan ha confermato la piena disponibilità della regione a monitorare la situazione ribadendo l'impegno nell'assistenza ai lavoratori. Il prossimo incontro in sede regionale è previsto per il 5 settembre.